Il percorso che abbiamo fatto con il mister Domizzi, noi come squadra, soprattutto non siamo stati in grado di ricevere i suoi dettami, perché poi il calcio va anche in basso alle prestazioni, risultati innegabili, che quelle prestazioni là non erano all'altezza della fermana. Però credo che non sia da attribuire come sempre, io penso solo ed esclusivamente al mister Domizzi, sono cose che nel calcio, anzi con i quali io, come per quanto riguarda il mister, avevo un ottimo rapporto, ci mancherebbe altro. Purtroppo ci sono delle situazioni, dei percorsi che magari non si riescono a portare a termine per mille motivi, mi dispiace perché non va preso assolutamente come una cosa positiva nel modo più assoluto, però dico anche che fa parte del passato, quindi ora siamo contenti col mister, abbiamo intrapreso un ulteriore percorso, anche se per forza di cose il mister si è trovato a lavorare di fatto 15 giorni con la squadra, perché abbiamo fatto una settimana intera, appena è arrivato c'era il turno infrasettimanale, questa è la seconda settimana, poi ci sarà di nuovo il turno infrasettimanale, quindi come diceva anche prima c'è bisogno di lavorare come stiamo facendo per capire poi anche tutti i suoi criteri. A me non me ne frega niente, c'è del ruolo, se devo fare il turnizzatore, se devo... per me quando si va in campo ci si deve andare e giocare la partita per quello che c'è bisogno di fare. Io credo che in questo momento ci sia bisogno di concretezza, e quindi poi quello che viene dopo è tutto di guadagnato, però in questo momento c'è bisogno del noi e non dell'io, e quindi se c'è da mettere da parte qualcosa si mette da parte e si va in battaglia.